Quali sono le nuove tendenze che vedremo in passerella? Le nuove tendenze in passerella sono innumerevoli. Sotui propone un pop style con tutti questi patch arricchiti con brillantini coloratissimi, Lulu decisamente più minimale, più bon ton, la couture di Miss Grant è sempre molto chic, molto elegante per i momenti importanti e l'easy chic, decisamente hippie. Sentiamo in sottofondo le piccole modelle che cantano, quanto è bello lavorare con i bambini? Bellissimo, trasmetto un'immensa gioia, ci si diverte sempre tanto. Proprio per i bambini sappiamo che c'è un progetto importante? Un progetto importantissimo per aiutare i propri bambini che hanno bisogno d'aiuto e per donare loro un sorriso. E come è stato scelto il format di questo progetto? Allora, il format di questo progetto è stato scelto proprio per l'entusiasmo della protagonista che trasmette da sempre nell'aiutare i bambini malati e quindi non potendo rinunciare a questi doni, insomma, per noi è sempre importante cogliere questi momenti per far conoscere queste persone che si impiegano per aiutare i bambini. Grazie mille. Grazie a te.